Grazie. 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 E allora bentornati su Uarco, amiche e amici arcieri, siamo pronti per seguire le fasi conclusive del torneo della ripartenza, queste sfide che vedono in campo gli atleti della Nazionale Olimpica e gli azzurrini della Scuola Federale Fitarco qui dal Centro Tecnico Federale di Cantalupa, questa mattina nella diretta del mattino si sono disputate le sfide degli ottavi e quarti di finale sia femminili che maschili e adesso il programma prevede le semifinali femminili, ecco qua fanno il loro ingresso in campo le prime azzurre in gara, semifinali femminili una alla volta, la prima sarà tra Chiara Ribagliati, arcieri Torrevecchia ed Elena Tonetta, aeronautica militare, a seguire l'altra semifinale e poi bronzo e oro, le sfide che assegnano il podio di questa prima gara che vede impegnati gli arcieri azzurri dopo il lockdown successivamente si seguirà lo stesso identico programma ma per l'Olimpico maschile, allora già cominciata la sfida con Chiara Ribagliati che piazza subito un ottimo 10 e vediamo la risposta di Elena Tonetta, un 9 vicino al 10 un 10 di riga, dietro le due atlete ci sono i coach della nazionale olimpica stiamo parlando di Natalia Valeva, è stata una delle più grandi campionesse della nazionale azzurra e Amedeo Tonelli, anche lui ex azzurro ancora in forza all'aeronautica militare che adesso ormai nelle vesti di coach e allora nel frattempo siamo online anche su Facebook mentre il risultato dovrebbe essere la parità 29-29, 2-10 e un 9 per entrambi il giudice di bersaglio Mario Trapani confermi i punteggi, vediamo come ha gente gli altri atleti e allora sull'1 a 1 si va con la seconda volée o secondo se ti voglia il sistema è sempre quello del set system ecco Chiara Rebagliati in mira, atleta Ligure in forza agli arcieri Torrevecchia anzi il suo coach e questa Elena Tonetta che invece viene seguita personalmente oltre che qui in campo nazionale da Amedeo Tonelli un 10 e un 9 questo è un 10 da parte di Chiara Rebagliati seconda freccia per Elena Tonetta un 7 alto per l'atleta Trentina ha la possibilità con questa freccia Chiara Rebagliati ha fatto quello che doveva chiudere praticamente già il secondo set con questo 10 non dà la possibilità ad Elena Tonetta di pareggiare il conto il 9 non basta 29-26 3-1 allora questo è il percorso che hanno svolto le due atlete per arrivare in semifinale Chiara Rebagliati ha battuto Laura Baldelli che aveva superato Vanessa Landi agli ottavi mentre per quanto riguarda Elena Tonetta ha superato 6-2 Karen Erbat l'altra semifinale sarà tra Tatiana Andreoli e Lucia Labuari il duo delle Fiamme Oro e la vedremo successivamente a questo match il primo dei match pomeridiamini stiamo trasmettendo su Juarco e allora si va al terzo set inizia Elena Tonetta proprio perché deve recuperare in svantaggio inizia molto bene con un 10 e allora risponde con una X Chiara Rebagliati subito a tono un altro 10 da parte di Elena Tonetta un 9 per Rebagliati e allora un altro 9 per la Rebagliati che non basta in questo caso il 29-28 premia Elena Tonetta che si porta sul 3-3 pareggia il conto dopo aver perso il set precedente vedete appunto Mario Trapani che controlla i punteggi il direttore dei tiri è Stefano Murgia mentre il giudice di gara qua sul campo è Francesca De Prospo un ringraziamento naturalmente a tutti coloro che stanno lavorando per questa diretta a partire dalla regia da Natascia Salubazze Ardingo Scarzella in grafica le telecamere Ticuscia Nakascizze e poi Marco Carpignano e Gabriele Giovine che sta lavorando nelle vesti di speaker sono presenti anche le telecamere di Rai Sport che produrranno una sintesi della manifestazione che andrà in onda il 28 luglio martedì 28 luglio appuntamento alle 23.30 su Rai Sport il giorno successivo mercoledì 29 luglio replica alle 15.30 sempre su Rai Sport mentre questa sera alle 18.48 su Rai 2 un servizio su il Raduno e la gara degli azzurri andrà sul TG Sport di Rai 2 e allora torniamo in cronaca diretta vi daremo gli appuntamenti e anche più avanti in questa telecronaca di questo pomeriggio gli appuntamenti su Rai Sport da non perdere sembrava un 8 la seconda freccia di Chiara Rebagliati si è confermato in grafica vediamo la seconda di Elena Tonetta un altro 10 chiude con un 10 26 punti per Chiara Rebagliati può portarsi sul 5 a 3 Elena Tonetta riuscendo a mettere dentro un 8 altrimenti vediamo un 9 quindi è più che sufficiente 29-27 5 a 3 in favore dell'atleta dell'aeronautica militare vedete Amedeo Tonelli che prende appunti proprio in riguardo ai punteggi è quello che avete visto che ha portato le frecce in questo momento Federico Fabrizi che ha partecipato alla gara questa mattina lui uno degli atleti della scuola federale è stato titolare per l'Italia ai giochi olimpici giovanili di Buenos Aires e allora 5 a 3 comincerà Chiara Rebagliati al bersaglio uno e allora si comincia con un 9 da parte di Chiara Rebagliati la scorsa estate titolare anche alle Universiadi insieme a Tania Giaccheri un 9 un 9 anche per Elena Tonetta che è diventata mamma e ha ripreso però alla grande la sua attività arceristica e punta decisamente anche lei come le altre azzurre ad arrivare a Tokyo sarebbe per lei in questo caso la seconda Olimpiade già stata titolare a Pechino 2008 attenzione una freccia larga a sinistra un 6 forze 7 per Elena Tonetta vediamo come chiude la volée Chiara Rebagliati mi sembra un 10 di riga almeno così a occhio con le ombre potrei sbagliare eccolo anche in grafica 27 punti allora anche un 10 non servirebbe ad Elena per riuscire a spuntarla e quindi si va sul 5 a 5 sarà shoot off per questa prima semifinale 27 a 24 che vale lo spareggio e come vedete in grafica le palpitazioni aumentano una freccia sola per decidere chi accederà alla finale per la medaglia d'oro mentre e allora sprareggio una freccia ciascuno per decidere chi accede alla finale per la medaglia d'oro e adesso vediamo chi riesce a mettere la sua freccia più vicino al centro del bersaglio per vincere questa sfida vi invitiamo come sempre a condividere sia la diretta su facebook o il link di Juarco per seguire questa sfida tra i nostri campioni attenzione una freccia larga a destra sull'otto basta entrare nel giallo ad Elena Tonitta per guadagnarsi la finale per l'oro vediamo un po' se riesce l'atleta trentina attenzione un altro otto l'ha tenuta molto e sono due otto esterni si danno la mano le due atlete e allora l'otto di Chiara ribagliati era più vicino al centro e quindi Chiara ribagliati in finale per la medaglia d'oro si giocherà invece il bronzo Elena Tonitta e allora è stato decretata la vittoria di Chiara ribagliati allo spareggio questo è il replay di Elena Tonitta che ha tenuto molto il tiro fino alla fine per quanto riguarda lo shoot off e anche lei ha impattato sull'otto con la sua freccia abbiamo sentito tramite il microfono abbiamo sentito tramite il microfono che Amedeo Tonelli faceva il conto alla rovescia dei punti e allora adesso si andrà la seconda semifinale una semifinale che metterà in competizione due atlete delle fiamme oro entrambe le atlete del gruppo sportivo della polizia di stato stiamo parlando delle azzurre che sono state titolari ai mondiali della scorsa estate insieme a Vanessa Landi stiamo parlando di Tatiana Anderoli e Lucilla Boari ecco qua le vedete già in grafica hanno già preparato il cavalierino per le due atlete allora adesso si scende in campo per la seconda semifinale torna nel box dei tecnici Natalia Valeva è già pronto anche Amedeo Tonelli sono i due coach che seguono la nazionale femminile ed eccole qua che fanno il loro ingresso in campo col cappellino bianco Lucilla Boari con il cappellino azzurro cappellino blu Tatiana Anderoli entrambe con la maglia amaranto delle fiamme oro sempre Francesca De Prospo il giudice di gara che vedete dà indicazioni alle due atlete naturalmente dietro a seguire ci sono i coach membri dello staff tecnico il presidente Scarzella il coordinatore tecnico e vicepresidente Sante Spigarelli c'è anche il vicepresidente Paolo Poddi vediamo anche Jacopo Cimmarusti il preparatore atletico Giorgio Botto insomma tutti coloro che lavorano qui a Cantalupa il partito poco fa Andrea Rossi fisioterapista della Nazionale e allora le prime due frecce delle due atlete entrambe sul nove ricordiamo che questo è un po' il remake della finale dei giochi europei della scorsa estate a Minsk giochi europei che hanno visto queste due giovani ma già grandi atlete sfidarsi proprio per la medaglia d'oro in questo caso è una semifinale in quel caso vinse Tatiana Andreoli l'oro e Lucilla Boari argento attenzione un 6 alto da parte di Tatiana chiude con la terza freccia adesso Lucilla Boari dopo 2-9 una freccia che può già portarla sul 2-0 ecco qua anche un 10 non sarebbe sufficiente per Tatiana con quel 6 alla seconda freccia chiude con un 10 che non è sufficiente 25-27 i due punti vanno a Lucilla Boari che ricordiamolo entrambe sono atlete cresciute proprio nella scuola federale di Cantalupa Lucilla Boari ha già esordito ai giochi olimpici era praticamente una delle atlete più giovani ai giochi olimpici con i suoi se non sbaglio 19 anni aveva praticamente appena concluso gli esami di maturità poche settimane prima e poi è partita per il Sambodromo di Rio de Janeiro dove ha sfiorato l'impresa storica ma comunque risultato storico il quarto posto della squadra femminile insieme a lei Claudia Mandia e Guendalina Sartori un quarto posto che rimarrà nella storia e ad oggi il miglior risultato di sempre della nazionale italiana al femminile nella storia dei giochi olimpici torniamo in cronaca diretta dopo il 2-0 per Lucilla Buari sarà Tatiana Andreoli che vedete inquadrata in questo momento un 9 per Tatiana Andreoli ora Lucilla Boari un 7 a sinistra per lei ricordiamo che la visuale in questi momenti non è stata cambiata sul bersaglio perché ci sono sempre le stesse persone a ritirare le frecce e quindi per il protocollo anti-covid non c'è in questo momento necessità di sostituire la visuale quindi un 9 per la Boari in questo momento è in vantaggio Tatiana vediamo come chiude con un 8 27 punti e allora con il 10 arriva al massimo al 26 Lucilla Boari che è arrivato il 9 25 ed è servito il pareggio con questo 27 25 e allora a questo punto vediamo se è tutto confermato praticamente stesso parziale per l'una e per l'altra dopo la prima e la seconda voler prima un 27 25 in favore di Lucilla Boari adesso un 27 25 in favore di Tatiana Andreoli nel frattempo rispetto a questa mattina sembra che si è alzato abbastanza il vento si vede anche un po' da dalle vele sognerebbe capire se in effetti è un vento che può un pochino infastidire le atlete o le traiettorie delle loro frecce iniziato con un 8 Lucilla Boari vediamo la risposta di Tatiana Andreoli sul 10 si porta avanti di due punti arrivato anche il 10 di Lucilla Boari vediamo la risposta seconda freccia terza voler Tatiana Andreoli sul 9 resta nel giallo l'atleta delle fiamme oro 9 con asterisco potrebbe essere 10 quindi allora chiude con un 9 Lucilla Boari 27 punti per lei terza freccia per Tatiana Andreoli che può portarla sul 4 a 2 vediamo se ne approfitta e ne approfitta e come freccia sul 10 29 27 il parziale che vale il 4 a 2 eccola qua la vela Fitarco che vedete sventola in direzione dei bersagli e allora si parte sul 4 a 2 sarà Lucilla a tirare per prima eccola qui inquadrata l'atleta delle fiamme oro vincitrice anche dei giochi del metiterraneo Lucilla Boari 9 alla prima freccia rientra nel giallo ed ora la risposta di Tatiana Andreoli atleta diciamo di casa anche perché è nata a Venaria Reale quindi c'è di Torino Lucilla invece della provincia di Mantua sull'8 la seconda freccia di Lucilla Boari sul 9 allora chiude con un 9 Lucilla 26 punti è una freccia che può essere decisiva quella di Tatiana Andreoli per guadagnarsi la finale per la medaglia d'oro contro Chiara Rebagliati sull'8 quindi parità non è riuscita a sfruttare l'occasione l'atleta piemontese e allora un punto ciascuno è ancora aperta la sfida ricordiamo che la precedente semifinale è finita allo shoot off allo spareggio e quindi di come andata arrivare nella secca in serie di 6 2 5 3 vantaggio di una di Tatiana tra leoni per l'ultimo set ancora Cilla Buari tenta a tirare per prima il versaglio numero 2 e allora 5 a 3 Cilla Buari può ancora pareggiare il conto e portare la sfida allo shoot off non può permettersi però di pareggiarlo questo set perché si andrebbe sul 6 a 4 e allora sarebbe finale per loro per Tatiana Andreoli vediamo un po' che cosa esce fuori da questa sfida allora entrambe le frecce sull'8 quindi c'è ancora equilibrio sul 9 la seconda freccia di Lucilla Buari adesso Tatiana Andreoli sul 9 anche a lei perfetta parità che in realtà per l'Andreoli va bene non va bene per Lucilla che deve cercare di piazzare un 10 a questo punto no esce sul rosso 8 adesso ha di nuovo la possibilità come prima Tatiana Andreoli di chiudere il match con questa freccia vediamo se ne approfitta e ne approfitta bene un 10 che le regala la finale per loro contro Chiara Rebagliati 27 a 25 che è allora il colpo di gomito tipico di questo periodo contraddistinto dal coronavirus tra le due atlete e tra i coach e allora a questo punto si va alla finale per loro tra Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati mentre sarà finale per il bronzo tra Elena Tonetta e Lucilla Boari e e andate giù tutta dove voi e vedete dietro voi stai niente qui e allora adesso si prepara quel che serve per la finale che vale il bronzo il terzo posto e allora in tempo il tempo di vedere l'ingresso in campo entreranno qui al centro tecnico federale di Cantalupa Elena Tonetta aeronautica militare Lucilla Boari fiamme oro per giocarsi il terzo posto il bronzo in questa sfida tra atlete azzurre del della nazionale olimpica la l'altra schiera che è quella lunga non va ci vuole un problema allora dovrebbe essere tutto pronto per l'ingresso in campo e allora i coach hanno già preso il loro posto Amedeo Tonelli e Natalia Valeva sono i coach della nazionale femminile è quella che vedete Elena Tonetta al bersaglio numero uno al bersaglio numero due Lucilla Boari che ha appena concluso la semifinale che ha perso contro Tatiana Andreoli e allora il giudice di gara Francesca De Prospo dà il via al match sarà Elena Tonetta a cominciare per prima eccola qua l'atleta dell'aeronautica militare Elena Tonetta atleta trentina sull'otto la prima freccia della Tonetta diamo un po' la risposta di Lucilla Boari da Lombarda un 10 per Elena Tonetta dopo l'otto iniziale vediamo al 9 alla prima freccia Lucilla Boari che cosa aggiunge ogni tanto arriva qualche fulata di vento più intensa risponde con una X la Boari un 10 ed ora terza ed ultima freccia di questo primo set per Elena Tonetta con un altro 10 chiude a 28 punti vediamo se riesce a far meglio Lucilla Boari un 10 significherebbe 2 a 0 per lei è arrivato il 10 di Lucilla Boari 2 a 0 tanto su Juarco ci ha scritto Paolo complimenti ad entrambe Elena e Chiara si riferisce alla prima semifinale invece Paolo dice che arco possedete sono degli archi olimpici ognuno ha il suo sponsor questi atleti naturalmente gran parte sono sponsorizzati l'unica cosa che hanno in comune gli atleti e gli archi che sono qui è che sono tutti archi olimpici o ricurvo il record Bo nella dicitura internazionale ricomincia Elena Toneta in virtù dello svantaggio sul 9 la freccia dell'atleta azzurra vediamo come risponde la compagna di Nazionale sul 9 anche Lucilla Boari 9 di riga per Elena Toneta sembra proprio toccare la riga quella freccia ed ora seconda freccia anche per Lucilla Boari fiamme oro 8 a sinistra per lei chiude con un altro 9 27 punti non è ancora detta perché Lucilla Boari con un 10 si guadagnerebbe un punto vediamo se riesce a metterla al centro del bersaglio questa terza freccia è un 9 non è sufficiente 27 a 26 2 a 2 pareggia al conto Elena Toneta vediamo un po' se ci avete scritto su Facebook Facebook un b a e a e a e alz 1 sempre fin e due altre sempre tra lì e 2 sempre sempre tra le sempre è costante ora la facciamo la spalla no vediamo la Allora, intanto sentite dai microfoni delle telecamere, ci sono i tecnici che danno i loro consigli agli atleti, confermato il 2 a 2 dal giudice di bersaglio Mario Trapani. Sì, avrete notato anche che le visuali che stanno utilizzando le atlete per queste finali, per questa finale del bronzo, sono state nel frattempo cambiate, proprio perché adesso a recuperare le frecce ci sono altre persone per il protocollo Covid. Si fa in maniera che sia sempre la stessa persona a toccare la visuale e in alternativa viene cambiato. Allora, intanto un 9 per Elena Tonetta, la risposta è affidata a Lucilla Boari. Eccola qui, sul 10 una X, bellissima freccia questa di Lucilla. Vediamo come risponde Elena Tonetta. Con un 9 Lucilla Boari Un altro 10, si porta avanti di 2 punti, 20 a 18 il parziale. Terza freccia, vediamo come chiude Elena Tonetta, deve mettere un po' di pressione sulla compagna di Nazionale. Chiude con un altro 9, 27 punti, basta un 8 per Lucilla Boari per portarsi avanti, 4 a 2. Arrivato sul campo anche Mauro Nespoli, attenzione, un 8 che però è sufficiente per andare avanti sul 4 a 2, 28 a 27 il parziale. Vi invitiamo come sempre a condividere la diretta di Uarco, la diretta Facebook. Lucilla Boari E allora sarà di nuovo l'atleta trentina Elena Tonetta a cominciare la quarta volée, visto che Lucilla Boari si è portata in vantaggio per 4 a 2. Comincia sempre l'atleta in svantaggio. Inizia bene con un 10 Elena Tonetta. Ed ora la risposta di Lucilla Boari. Sponde con un 9 Un altro 10 per l'atleta cresciuta al Cosmo Sorvereto. Un 10 anche per Lucilla Boari. Un 10 anche per Lucilla Boari. Una X, c'è qualcosa che non mi quadra in grafica. Bravi, bravi ragazzi. E allora, medaglia di bronzo a Lucilla Boari. il 10 all'ultima freccia vale la vittoria per l'atleta delle Fiamme Oro e quindi quarto posto per Elena Tonetta e allora prima medaglia assegnata in questo torneo della ripartenza tra Lucilla Boari ed Elena Tonetta ha avuto la meglio Lucilla Boari 6 a 2 andiamo a vedere i punti 29 a 28 la prima volè in favore della Tonetta poi 27 a 26 per Lucilla Boari no chiedo scusa al contrario 29 a 28 per Lucilla la prima volè 27 a 26 per Elena Tonetta la seconda poi 28 a 27 per Lucilla Boari la terza volè e infine il 29 a 28 che ha portato Lucilla Boari a Vibronzo terzo posto per lei una sfida conclusa sul 6 a 2 in favore dell'atleta delle Fiamme Oro a questo punto per quanto riguarda il torneo al femminile manca la sfida per la medaglia d'oro intanto i coach delle azzurre tornano al cannocchiale in mezzo al campo allora adesso manca l'ingresso in campo delle due atlete e poi si comincia con la sfida che chiuderà i match al femminile e allora accompagnate dal giudice di gara Francesca De Prospo ricordiamo il direttore dei tiri Stefano Murgia e il giudice di bersaglio Mario Traponi che è anche il responsabile zonale eccola qua al bersaglio numero 1 l'atleta degli arciari Torrevecchia Chiara Ribagliati al bersaglio numero 2 è Tatiana Andreoli delle Fiamme Oro il gruppo sportivo della Polizia di Stato Ecco là il gruppo sportivo della Polizia di Stato il gruppo sportivo della Polizia di Stato con il gruppo sportivo della Polizia di Stato dell'Astituto Grazie. Grazie. Perfetta parità, una freccia al termine del primo set di questa finale che vale l'oro. Chiude con un 8 Chiara Rebagliati e chiude invece con un 10 Tatiana Andreoli che quindi con questo 29-27 si porta avanti 2-0. Questo naturalmente vige il set system in questa sfida così come in tutte le altre che riguardano l'arco olimpico. E questo è il percorso di gara delle atlete. Avete visto Chiara Rebagliati ha battuto Laura Baldelli 6-2 ai quarti di finale. Poi in semifinale l'avete vista prima ha superato Elena Tonetta. Mentre per quanto riguarda Tatiana Andreoli ha avuto la meglio su Tania Giaccheri 6-2 ai quarti di finale. Poi ha avuto la meglio su Lucilla Boari in semifinale. Lucilla che ha vinto la medaglia di bronzo. Si ricomincerà con Chiara Rebagliati al bersaglio numero 1 per prima considerando che è sotto 2-0. Allora Iniziato con un 7 Chiara Rebagliati. Arciari Torrevecchia, Tatiana Andreoli. Questa è la seconda freccia di Tatiana Andreoli dopo il 7 e il 9 della Rebagliati. Al primo 9 risponde con un 6 Tatiana Andreoli. Quindi adesso si ritrova avanti la Rebagliati. Vediamo la terza freccia di questo secondo set. Il 9 servirebbe un 10 all'Andreoli per pareggiare il conto. Qualsiasi punto in meno varrebbe il 2-2 per Chiara Rebagliati. E arriva un 9 che non è sufficiente. 2-2 25-24 il parziale. Mentre Sly mi ringrazia per le telecolonache, grazie a te per i complimenti. E poi Paola dice straordinario, brave tutte. È bello vedere in diretta, grazie. Grazie a voi che ci seguite. Anzi, vi chiediamo come sempre di condividere il link di Juarco oppure la diretta che stiamo trasmettendo anche su Facebook. Per quanto riguarda Antonio ci scrive, brava Lucilla, onore al merito, Elena Antonio Boari, che forse è parente della nostra Lucilla, che ha vinto la medaglia di bronzo poco fa. E allora, Lorenzo scrive, bravissime, sempre su Juarco. Poi vediamo anche un amico in arabo su Facebook. Purtroppo non so leggerlo. Allora, ha iniziato con un 8, Chiara Rebagliati risponde con un 9, Tatiana Andreoli. Ancora Chiara Rebagliati, Arciari Torrevecchia, ma lo abbiamo già detto, ha messo un 9. Atleta Ligure. Un 9 anche per Tatiana Andreoli, che quindi è un punto avanti. Vediamo la terza freccia di Chiara Rebagliati. Un 9, chiude a 26, ha la possibilità con questa freccia di portarsi sul 4 a 2, Tatiana Andreoli. E allora, chiude con un 9 che è sufficiente a portarsi sul 4 a 2, 27 a 26 il parziale in favore dell'atleta delle Fiamme Oro. L'abbiamo detto, durante la semifinale, Tatiana Andreoli, che la scorsa estate ha ottenuto il suo successo più importante in ambito individuale. Qua stiamo parlando della vittoria ai giochi europei di Minsk, superando la compagna di squadra di nazionale Lucilla Boari in una finale tutta tinta d'azzurro. Tatiana Andreoli, che ha già partecipato a due mondiali senior, nonostante la giovane età, ha prodotto della scuola federale di Cantalupa. Ha vinto, proprio insieme a Lucilla Boari e a Vanessa Landi, il titolo mondiale juniors femminile a squadre in quel di Rosario, in Argentina, nel 2017. Per poi andare a partecipare insieme alle compagne di squadra, al loro primo mondiale senior, nonostante fossero tutte e tre junior. Inizia molto bene con un 10, Chiara Rebagliati. Atleta polietrica, che è stata anche campionessa del mondo nel tiro di campagna. Sto parlando di un'atleta brava in entrambe le discipline. Sta avendo un'evoluzione sempre migliore anche nel tiro alla targa, tant'è che è qui ad allenarsi e fa parte delle migliori d'Italia. Un 10 e un 8 per Chiara Rebagliati, iniziato con un 7, Landreoli registra il tiro sul 10. Ecco, Antonio ci scrive, sono il papà di Lucilla, complimenti ad Antonio per avere una figlia così in gamba, nonostante la giovane età, già partecipato ai giochi olimpici. Chiude con un 9, Chiara Rebagliati, 27 punti, ha bisogno di un 10 per pareggiare il conto, altrimenti sarebbe 4 a 4. Tatiana Andreoli. Un 9 di riga sembrerebbe, non è comunque sufficiente, perché vale comunque un 4 a 4. E allora, si va in parità al quinto set di questa finalissima del torneo della ripartenza, ricordiamolo, capito un po' dalle mascherine e dal distanziamento anche dietro gli atleti, che anche questa competizione naturalmente segue il protocollo Covid-19, quello che stanno seguendo praticamente tutte e 38 le gare messe nel calendario sperimentale di luglio, gare sperimentali proprio perché la dirigenza federale sta cercando di, ha fatto tornare all'agonismo i tesserati italiani, ma sta cercando la formula migliore per poter continuare a gareggiare anche in futuro in queste condizioni con questa pandemia di coronavirus. Sono già state cambiate alcune cose, proprio qualche giorno fa, proprio per le gare di questo weekend, proprio appunto in riferimento all'uso della mascherina, che non è più necessario per rilasciare sulla linea di tiro, che adesso possono anche utilizzare il cannocchiale riportandolo via al termine delle loro frecce. Trovate tutte quante le spiegazioni naturalmente sul sito della Fitarco, ma andiamo in cronaca diretta. Un 10 per Chiara Rebagliati, un 9 per Tatiana Andreoli. Vediamo adesso la seconda freccia dell'atleta degli arciari Torrevecchia, l'atleta Ligure, Chiara Rebagliati. Sul 9 mi sembra questa seconda freccia, 19 punti per lei ed ora la seconda freccia per Tatiana Andreoli. Un 9, resta un punto sotto. Vediamo se Chiara Rebagliati. Le servirebbe un 10 per riuscire a vincere questa finale. Vediamo se riesce. Attenzione, la freccia sull'otto, larga a destra. A questo punto è Tatiana Andreoli ad avere la sua chance di vittoria con questa freccia. In caso di Partasi andrebbe allo spareggio sul 5 a 5. Allora, sarebbe shoot-off, ci sono un paio di frecce vicine alla riga, vogliamo essere sicuri prima di dire che si risolverà la freccia di spareggio, la sfida. Comincia il batticuore, lo vedete in grafica. Intanto, 122 target e dice salve a tutti, grazie per questa diretta, grazie a te per seguirci sempre. E allora, è definito, sarà shoot-off, freccia di spareggio, una ciascuna. La più vicina al centro del bersaglio si porta a casa la vittoria di questo torneo della ripartenza, qui dal centro tecnico federale di Cantalupa, che sarebbe il luogo dove si allena appunto la nazionale. Allora, comincia Chiara Rebagliati, che prima ha superato allo shoot-off Elena Tonetta, inizia con un 10. La risposta di Tatiana Andreoli, deve far meglio della compagna di nazionale per vincere loro. Un 10 anche per lei, bisogna vedere adesso quale delle due è più vicina al centro. Penso che ci vorrà l'occhio di Mario Trapani, giudice di bersaglio. Se ne tira un'altra, è vero il nuovo regolamento, prevede che in caso di parità la prima freccia si va sulla seconda freccia di spareggio. Chiedo scusa. Avevo dimenticato che nel frattempo è cambiato il regolamento. In caso di parità, stesso punteggio sul 10, si va al secondo shoot-off. E allora, sarà di nuovo Chiara Rebagliati a cominciare per prima, seconda freccia di spareggio. Questa volta una freccia a larga a destra. Naturalmente dà la possibilità a Tatiana Andreoli di far meglio. Arriva il 9 che dà la vittoria a Tatiana Andreoli dopo la seconda freccia di spareggio. E allora, è stata Tatiana Andreoli con questo 9 al secondo shoot-off ad aggiudicarsi la vittoria al femminile del torneo della ripartenza. Questa è stata la prima gara agonistica della Nazionale Azzurra dopo il lockdown. Quindi, complimenti all'atleta delle Fiamme Oro. Complimenti sicuramente anche a Chiara Rebagliati per il suo percorso che chiude quindi al secondo posto. E allora, è stata una gran bella sfida considerando che si è risolta con un doppio spareggio. Questo sta a significare che è stata sicuramente equilibrata la sfida. Intanto Antonio, il papà di Lucilla, Boari, ci scrive ringrazio per i complimenti. Maggiù il cappello a Lucilla e a tutte le campionesse e campioni della Nazionale Azzurra. In bocca al lupo a tutti. Che denota grande sportività. Grazie signor Antonio. Hai ragione, grazie ai nostri azzurri che, possiamo dirlo, si impegnano davvero per tenere in alto i colori della Nazionale. Noi che abbiamo un po' il privilegio di poterli seguire da vicino, come in questa occasione che siamo proprio qui a Cantalupa. Abbiamo visto i loro allenamenti in questi giorni. Stiamo parlando veramente di un lavoro certosino da parte degli atleti, da parte dello staff tecnico. Ne ha parlato il coordinatore tecnico Sante Spigarelli all'inizio di questa diretta. Nulla viene lasciato al caso. Intanto Paola dice bravissime, Lorenzo, bravissima Tatiana. Vediamo anche su Facebook se qualcuno ci ha scritto. Eccolo Paolo, grande Tatiana. Silvio ha scritto vai Chiara. Grazie. 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 E allora state vedendo le immagini, i replay della... della sfida che valsa loro per Tatiana Andreoli. E allora, vediamo un po'. Grazie. Sì. Grazie. 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 La sintesi della competizione andrà in onda il 28 luglio alle 23.30 e poi in replica il giorno successivo il 29 luglio alle 15.30. Mentre per quanto riguarda un servizio proprio su Rai 2 questa sera andrà in onda le 18.48 sul Tg Sport di Rai 2 di questa sera, un servizio con le immagini girate proprio da Uarco e date alla Rai nella giornata di ieri. E allora, cambio di microfono. Tanto dobbiamo dare il tempo ai ragazzi di prepararsi, stanno ancora svolgendo i tiri di prova prima che inizino le semifinali maschili. Quindi sentiamo un po' cosa ci dice Tatiana. Stanno mettendo a posto l'audio per prendere le battute di Tatiana Andreoli. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Come hai trascorso il periodo di lockdown? Hai potuto proseguire l'attività? Ti sei allenata? Hai subito uno stop? Ci siamo allenati, penso che tutti noi ci siamo tutti allenati, come potevamo, in casa, piuttosto che in giardino e tutto. Ovviamente perché il mondo si è fermato per il Covid ma le Olimpiadi non si fermano, quindi noi ci alleniamo sempre e comunque. Poi siamo abbastanza ossessivi in questo, ci piace allenarci. Un primo risultato è vero che è un torneo, ma è un torneo abbastanza importante perché comunque eravate tutti della nazionale, quindi comunque vuol dire in parte ripreparare e ripartire nel percorso di avvicinamento ai giochi ai cinque cerchi. Sì, ovviamente quello lì è l'obiettivo principale, ci aspetta una lunga strada verso la qualificazione per la squadra. Nel momento abbiamo un posto individuale femminile, individuale maschile nel mix team e speriamo comunque di andarci tre femmine e tre maschi anche con la squadra. Grazie, buon passione. Adoro. E allora avete sentito in diretta Tatiana Andreoli, questa è un'intervista che ci serviva anche per il montaggio di RaiSport. E a questo punto si potrà passare a quelle che sono le sfide del maschile, complimenti ancora a Tatiana Andreoli, complimenti naturalmente anche a Chiara Rebagliati per queste sfide avvincenti che hanno visto le atlete azzurre sfidarsi qui al Centro Tecnico Federale in quello che è il torneo della ripartenza che segue il protocollo Covid-19, il protocollo utilizzato anche per tutte le altre gare che si stanno svolgendo in questo weekend in tutta Italia e che si sono svolte nei primi due weekend di luglio e che termineranno con le sfide del prossimo fine settimana. Sono gare sperimentali proprio perché ci danno la possibilità di capire in quale maniera si può tornare appunto all'agonismo nonostante i problemi dovuti al Covid-19. Allora, intanto Lorenzo dice bravissima Tatiana, Pietro bellissima struttura, belle immagini, un bravo al telecronista, grazie. Non lo vogliamo mettere, grazie. Speriamo di vedere sempre più spesso l'arco in diretta, magari anche in TV. Caro Pietro, l'abbiamo detto prima, questa sera alle 18.48 su Rai2 andrà in onda un servizio su appunto la gara che abbiamo svolto qui dal centro federale di Cantalupa, dopodiché il 28 di luglio ci sarà la sintesi di queste finali su RaiSport alle ore 23.30 non perdetevi questi appuntamenti perché poi naturalmente sono importanti anche gli ascolti sulla Rai per poter avere maggior spazio in futuro. Per quanto riguarda sempre la visibilità della FITARCO vi invitiamo il 25 luglio ad acquistare la Gazzetta dello Sport con Sport Week. ci sarà una pagina pubblicitaria proprio della Federazione Italiana Tiro con l'Arco nell'inserto della Gazzetta dello Sport e vi daremo anche un altro appuntamento sempre invece sul cartaceo, sulla Gazzetta dello Sport e il quotidiano. Ci sarà un altro spazio pubblicitario proprio della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, ci saranno anche altre novità a brevissimo sempre su Gazzetta per un accordo che stiamo chiudendo proprio in queste ore con Gazzetta.it per riuscire ad ottenere uno spazio al sito della Gazzetta dello Sport. La Federazione sta cercando di investire per dare maggior visibilità possibile al tiro con l'Arco italiano e lo ribadiamo come ha detto il Presidente Scarcella, il Consiglio federale nell'ultima riunione ha preso delle decisioni molto importanti che riguardano i tesserati italiani a partire dal fatto che tutti i tesserati del 2020 saranno tesserati gratuitamente anche per il prossimo anno per il 2021 quindi non sarà necessario per i tesserati di quest'anno pagare nuovamente il tesseramento stesso discorso anche per le società. Le società Fitarco avranno la possibilità di confermare senza dover pagare nulla alla Federazione le quote societarie. E allora a breve cominceranno gli atleti del maschile con le semifinali nel frattempo abbiamo mandato al fotografo Filippo Corzini di fare alcuni scatti alle azzurre che ci serviranno poi in futuro e successivamente faremo altrettanto anche per gli azzurri e allora qua siamo pronti con la prima sfida di semifinale che vedrà in campo l'olimpionico Mauro Nespoli contro l'atleta della scuola giovanile Fitarco Matteo Balsamo l'atleta dell'aeronautica militare sfiderà l'atleta degli arcieri di Artemide eccoli che fanno il loro ingresso in campo insieme all'arbitro Francesca De Prospo eccoli che fanno il loro ingresso in campo insieme all'arbitro Francesca De Prospo e questo che vedete inquadrato è Mauro Nespoli dietro di lui a seguirlo inizia subito con un 10 Nespoli a seguirlo il coach della nazionale maschile Matteo Bisiani anche lui è stato un grande atleta della nazionale due volte medagliato ai giochi olimpici risponde con un 9 Matteo Balsamo alle sue spalle invece c'è il responsabile della scuola giovanile il coach Fabio Olivieri allora un 10 e un 9 per Balsamo un 10 e un 9 per Nespoli che va a chiudere il primo set con questa freccia 10 per Nespoli in chiusura 29 punti per l'atleta dell'aeronautica militare quarto al mondiale della scorsa estate che è valso il passo per l'Italia al maschile inizia benissimo con un 10 per lui una stagione da incorniciare quella dello scorso anno risposta di Matteo Balsamo 9 per Balsamo di nuovo Mauro Nespoli che ieri sulle 72 frecce ha ottenuto il miglior punteggio un 8 a sinistra per Nespoli per Balsamo per Balsamo una freccia molto vicino al 9 questo è un 8 sicuramente quella di prima sembra essere un 9 così ad occhio terza freccia per Mauro Nespoli 7 a destra 25 punti vediamo se ne approfitta Matteo Balsamo se va rivisto quell'8 con asterisco comunque un altro 8 e allora se quell'8 diventasse 9 sarebbe un punto ciascuno altrimenti si va sul 3 a 1 per Nespoli non è riuscito ad approfittare del 7 di Nespoli Balsamo vediamo un po' attendiamo che Mario Trapani controlli quella freccia dubbia di Matteo Balsamo ricordiamolo che atleta della scuola federale qui di Cantalupa stavamo dicendo di Mauro Nespoli lo scorso anno una stagione straordinaria per lui che l'ha portata al numero 4 del ranking mondiale finalista in Coppa del Mondo contro Brady Ellison chiuso con l'argento e poi prima ancora c'era stato il quarto posto al mondiale con il bronzo mixed team insieme a Vanessa Landi e poi il massimo l'ha ottenuto ai giochi europei di Minsk dove ha vinto l'oro individuale l'oro mixed team con Lucilla Boari e poi il bronzo a squadra insieme a David Pasqualucci e Marco Gagliazzo con i quali aveva gareggiato al mondiale risultati che gli sono valsi il titolo diciamolo pure di miglior atleta dei giochi europei non solo nel tiro con l'arco ma in tutte le discipline presenti ai giochi europei tant'è che è stato poi premiato in una premiazione in Qatar Mauro Nespoli insieme ai vincitori del premio dei giochi asiatici dei giochi panamericani e dei giochi in Oceania allora ha iniziato con un 9 Mauro Nespoli alla fine quell'8 con asterisco era 9 per Balsamo quindi siamo fermi sul 2 a 2 Matteo Balsamo eccolo qui inizia molto bene con un 10 ed ora la risposta di Mauro Nespoli una X per Nespoli che risponde molto bene al 10 di Balsamo diamo la seconda freccia nel terzo set di Balsamo sul 9 Nespoli Nespoli campionissimo un 9 anche per lui parità 28 a 28 3 pari grande equilibrio in questo match vediamo il coach Fabio Olivieri insieme a Matteo Balsamo e lui a seguire i giovani della scuola federale qui a Cantalupa sono tornati anche loro ad allenarsi qui dal primo luglio dopo che naturalmente è stata effettuata la sanificazione del centro federale allora dovrebbe essere di nuovo Mauro Nespoli a cominciare la sfida visto che era in aveva cominciato prima anche lui e infatti vedete il giudice di gara che dà l'ok a Mauro Nespoli ci salutano anche dall'Inghilterra Mauro Nespoli in mira freccia larga a sinistra sul set per Nespoli Teo Balsamo prima freccia del quarto set per l'atleta degli arcieri di Artemide molto bene sul dieci Balsamo Mauro Nespoli Mauro Nespoli medaglia d'argento a Pechino 2008 con Ilario Di Buo e Marco Gagliazzo e poi l'oro di Londra con Michele Frangile e Marco Gagliazzo centra il dieci con la sua seconda freccia Mauro Nespoli che è stato titolare anche a Rio 2016 dove ha ottenuto il suo miglior risultato individuale fermandosi ai quarti di finale dopo uno shoot off contro Jean-Charles Valladon un otto per Matteo Balsamo la seconda freccia vediamo come chiude il set Mauro Nespoli con questa terza freccia sul 9 chiude a 26 punti ha la possibilità l'atleta degli arcieri di Artemide di portarsi sul 5 a 3 vediamo se ne approfitta di quel set iniziale di Nespoli ne approfitta e come con un 10 si porta a 28 punti che vale il 28 26 5 a 3 e allora si sta comportando molto bene Matteo Balsamo dopo 3-7 pareggiati è riuscito a portarsi avanti naturalmente ha pagato quel 7 alla prima freccia Mauro Nespoli in questa volée che ha permesso a Matteo Balsamo con quel 10 conclusivo di andare in vantaggio a questo punto Nespoli non può nemmeno pareggiarlo il prossimo set perché assegnerebbe la vittoria all'avversario sul 6-4 quindi ha necessità di vincere il prossimo set per portare la sfida allo spareggio allo shoot-off di Matteo Balsamo 5 a 3 cucolano bagnone numero 1 inizierà a tirare per primo inizia con un 10 Nespoli ed ora vediamo Matteo Balsamo 9 molto vicino al 10 il 9 di Balsamo che comunque si sta giocando alla grande 10 10 9 allora un altro 9 per Matteo Balsamo invece dalla Rai mi arrivano delle novità rispetto al servizio di questa sera dopo ve le do e allora arriva il primo 30 di giornata 10 10 10 10 naturalmente a metterlo a segno a Mauro Nespoli che non voleva perdere l'opportunità di giocarsi di giocarsi quantomeno allo shoot off il passaggio alla finale per la medaglia d'oro chiude con un 8 Matteo Balsamo 5 a 5 sarà a spareggio e allora mi ha appena comunicato il collega di Rai Sport Enrico Cattaneo che ringrazio davvero che il servizio sulla competizione qui di Cantalupa andrà in onda su Rai News 24 alle 19.48 quindi questa sera Rai News 24 alle 19.48 e quindi non sul TG di Rai 2 bensì su quello di Rai News 24 anche tra la freccia di pareggio sarà Mauro Nespoli a iniziare per primo del bersaglio numero 1 e allora diamo un po' come si giocano queste frecce decisive i due atleti comincia di nuovo l'olimpionico Mauro Nespoli atleta dell'aeronautica militare sul 9 la freccia di Nespoli ha la possibilità con un 10 di portarsi a giocare la finale per loro Matteo Balsamo è un 9 anche il suo vediamo se è più vicino mi sembra molto vicino alla riga rispetto a quello di Nespoli che era vicino ma non la toccava e allora vediamo un po' dovrebbe aver vinto Matteo Balsamo attendiamo di vedere sì così ad occhio direi di sì Mario Trapani controlla le due frecce e attendiamo però il risponso ufficiale ecco qui vedete utilizza il compasso per essere certo del risponso di questo shoot off è arrivata la vittoria di Matteo Balsamo il giovane azzurro degli arcieri di Artemide alla meglio su Mauro Nespoli come sempre nel tiro con l'arco è questione di centimetri a volte millimetri ma insomma si tratta della vittoria allo spareggio sul campionissimo Mauro Nespoli quindi complimenti al giovane atleta della scuola federale Matteo Balsamo e adesso si va avanti con la seconda semifinale di giornata poi le sfide che valgono le medaglie che non si va avanti che non si va avanti devo tenerlo perché nel seguito è prese 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 Grazie. 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 10 per Pasqualucci che chiude con un 30 e c'è un 9 per Musolesi che però non è sufficiente per raggiungere il punteggio pieno di Pasqualucci. Il secondo 30 di giornata questo l'aveva messo a segno nella sfida precedente Mauro Nespoli. Intendiamo la verifica dei punteggi naturalmente. C'era solo la prima freccia di Pasqualucci che non era proprio un 10 pieno ma toccava comunque la riga e quindi di fronte a un 30 si può solo pareggiare con un altro 30. E quindi l'atleta dei Castelli Romani si porta avanti 2 a 0 nei confronti dell'atleta di Castenaso Federico Musolesi che sarà appunto il primo a cominciare questo secondo set. Non so se ci avete scritto qualcosa su Facebook. penso fosse caduta la diretta Facebook nel frattempo chiedo alla regia se sanno dirmi qualcosa. quindi su YouTube è tutto ok adesso vedo di nuovo il live però mi dava come se si fosse interrotta precedentemente la diretta Facebook adesso dovrebbe essere tutto ok allora una X e un 9 per Pasqualucci un 8 e un 8 forse 9 per Musolesi che va a chiudere la volée con questa freccia un 9 questo sicuramente la possibilità di portarsi sul 4 a 0 Pasqualucci con la sua terza freccia chiude con un 8 che comunque è sufficiente per il 4 a 0 27 e 25 potrebbe essere il parziale 27 e 26 ma cambierebbe poco sempre i due punti vanno all'atleta capitolino anche lui prodotto della scuola federale di Cantalupa e anche lui così come Lucilla Boari che citavamo in precedenza un'atleta che ha esordito giovanissimo ai giochi olimpici di Pechino dopo essere stato protagonista per la qualificazione della squadra al mondiale del 2015 dove gli azzurri lui, Michele Frangilli e Mauro Nespoli hanno vinto l'argento a squadre e acquisito i pass per Rio de Janeiro dove ha condotto una gara eccellente in qualifica poi però purtroppo l'Italia non è riuscita a confermare le medaglie delle 5 Olimpiadi precedenti con la squadra maschile e la sfiorata con la squadra femminile naturalmente l'obiettivo di David è quello di raggiungere nuovamente i giochi olimpici in quel di Tokyo sempre con la squadra visto che al momento l'Italia ha guadagnato le qualificazioni individuali al maschile e al femminile al 9 di Federico Musolesi che vedete inquadrato ha risposto con un 9 David Pasqualucci seconda freccia per l'atleta del Castenaso Archeri Team sul 10 invece è arrivato l'8 di Pasqualucci vediamo come chiude Musolesi per portarsi sul 2 a 4 con questa freccia no, la riga a destra sul 7 dà la possibilità a Pasqualucci di chiudere il match vediamo se ci riesce e ci riesce piazza una X pressoché perfetta 27-26 6-0 non ha dato la possibilità a Federico Musolesi di rientrare in partita molto deciso David Pasqualucci appena avuto l'opportunità ha cercato di sfruttarla e ci è riuscito allora a questo punto sono definiti i finalisti David Pasqualucci si giocherà la medaglia d'oro contro il giovane Matteo Balsamo mentre fra poco tornerà in campo Mauro Nespoli così come Federico Musolesi saranno loro a giocarsi il bronzo in questo torneo della ripartenza grazie a tutti 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 solamente pochi secondi di pausa e poi si ritorna in cronaca diretta con la finale bronzo e successivamente la finale oro che chiuderà questa giornata di diretta qui su Uarco e allora qui adesso riesco finalmente a vedere anche i messaggi su Facebook che prima non riuscivo più a vedere Johnny scrive dai Matteo riferendosi a Matteo Balsamo ci scrive anche il nostro azzurro della nazionale paralimpica buonasera a tutti un caro abbraccio a Guido e agli amici di Uarco grazie a te Giovanni ci saranno novità anche per quanto riguarda sia Giovanni che gli altri atleti azzurri della nazionale pararceri per quanto riguarda il prossimo raduno della nazionale paralimpica so che la dirigenza insieme allo staff tecnico stanno programmando appunto un raduno anche della nazionale paralimpica poi ci scrive Giovanni Grande Matteo saludos dall'Argentina ciao Rachel tanti saluti immenso Matteo ha scritto Mimma Luigi si Luigi ha scritto boh nella finale femminile in parità lo shoot off hanno tirato un'altra freccia questa è una regola inserita da World Archery dallo scorso anno intanto ci scrive tutto ok Ines per Facebook grazie per la comunicazione cara Ines e poi Gigia scrive Grandi e Matteo Balsamo orgoglio siciliano e giustamente questo giovane atleta dopo si sfiderà per loro con David Pasqualucci ma torniamo in cronaca diretta perché c'è la sfida che vale il bronzo tra i due atleti che hanno ottenuto nella giornata di ieri i migliori punteggi in qualifica Mauro Nespoli il miglior punteggio in qualifica e poi a seguire appunto Federico Musolesi e e anche David Pasqualucci e allora comincia Federico Musolesi Castenaso Archeri Team inizia con un 9 la risposta dell'olimpionico Mauro Nespoli che ha messo nel mio la sua quarta olimpiade inizia con una X Nespoli vediamo Federico Musolesi che dobbiamo dire lui è partito come atleta della Scuola Federale di Cantalupa quindi faceva parte del gruppo della Scuola Federale ed è stato in virtù dei risultati ottenuti negli ultimi due anni promosso tra la nazionale maggiore allora 2-9 per Musolesi che va a chiudere la volée con questa terza freccia un altro 9 27 punti per Federico Musolesi del Castenaso Archeri Team terza freccia per Mauro Nespoli che per ora ha centrato 2X vediamo se fa altrettanto con la terza 10-10-10 punteggio pieno per Mauro Nespoli che si porta avanti sul 2-0 e allora Mauro Nespoli mette subito in chiaro che dopo aver perso allo spareggio la semifinale vuole portarsi a casa come è abituato a fare almeno una medaglietta e quindi ha iniziato molto bene con un 30 vediamo un po' adesso la risposta di Federico Musolesi che ieri comunque ha fatto una gara di qualifica molto buona e vediamo se riesce a recuperare rispetto al campionissimo della nazionale vedete il coach Matteo Bisiani dall'altra parte dietro a Mauro Nespoli Giorgio Botto eccolo lì inquadrato che da quanto abbiamo capito nei prossimi giorni farà venire qui in raduno anche la nazionale nazionale campagna nazionale tiro di campagna Federico Musolesi va subito sul 10 dopo i 3-9 del primo set vediamo la risposta di Mauro Nespoli risponde subito con una X questo è il quarto di seguito per Nespoli di 10 è un 9 davvero vicinissimo al 10 quello di Musolesi ma non tocca la riga o almeno c'è l'asterisco quindi potrebbe toccarla vediamo Mauro Nespoli seconda freccia secondo set un altro 10 e un altro 10 anche per Musolesi bellissima sfida X 10 10 10 2.30 consecutivi per Mauro Nespoli dobbiamo vedere quella seconda freccia di Musolesi per capire se era sul 10 anch'essa oppure no e allora in pratica 6-10 consecutivi per Nespoli questo è uno score forse più da compoundista che da atleta olimpico ma insomma conosciamo le grandi qualità dell'atleta di Voghera intanto su Juarco Paola scrive vai Mauro sei forte Simone Pivari ci scrive che spettacolo il tributo di David da me grazie Pasqua dai e Pasqua e poi Paola dice un hurra per Pasqualucci nella sfida precedente e allora è confermato il 2-0 per Nespoli chiedo scusa il 2-0 in questo set 4-0 nel complesso vediamo se Federico Musolesi riesce a riportarsi sotto sarà lui a cominciare per primo eccolo l'atleta della Castenaso Archeri Team che ancora junior ha superato a Trani un paio di anni fa campionati italiani Targa un super campione come Michele Frangilli anche lui qua presente campionati italiani Targa e nonostante abbia avuto qualche problema nel caricare il tiro Nespoli poi ha rimesso una freccia sul 10 Musolesi un 9 di riga questo colpisce la riga sicuramente 2-9 per Musolesi vediamo Nespoli e questo è il primo 9 dopo 7-10 consecutivi per Mauro Nespoli terza freccia va a chiudere il terzo set Federico Musolesi con il 10 mette pressione all'avversario 28 punti vediamo se Mauro Nespoli con questa freccia riesce a chiudere il match a guadagnarsi il bronzo e arriva un altro 10 attenzione 8-10 su 9 frecce per Mauro Nespoli 6-0 6-0 non ha lasciato scampo a Federico Musolesi che ha fatto una sicuramente una buonissima finale per il bronzo ma di fronte a 2-30 consecutivi e un 29 era davvero difficile riuscire a fare di più e meglio di Nespoli che insomma dopo l'amarezza per una semifinale persa lo spareggio si si guadagna la sfida per il terzo posto contro un comunque ottimo Federico Musolesi del Castenaso Archeri Team allora a questo punto intanto Fiore ci scrive forza ragazzi intanto Bruno ci scrive extraordinario ma con Nespoli sicuramente una prova straordinaria vi chiediamo ancora di condividere questa diretta che sia su Facebook o link di Uarco queste condividere soprattutto perché manca una sola sfida al termine di questa giornata manca la sfida che vale l'oro quella tra il giovane atleta siculo della degli arcieri di Artemide Matteo Balsamo e l'atleta dell'aeronautica militare David Pasqualucci e sarà l'ultima sfida che chiude questo torneo della ripartenza ricordiamolo torneo che si svolge al centro tecnico federale di Cantalupa e che segue anch'esso il protocollo covid-19 ideato dalla federazione per poter far ritornare all'agonismo i tesserati Fitarco sono 38 le competizioni in tutta Italia che si sono svolte che si svolgono e che si svolgeranno nel mese di luglio si stanno svolgendo in questo momento anche altre competizioni ricordiamo proprio in merito alle questioni covid che il consiglio federale ha deliberato veramente pochi giorni fa nell'ultimo consiglio federale il tesseramento gratuito per gli arcieri tesserati nel 2020 quindi il prossimo anno potranno essere tesserati gratuitamente e anche le società non dovranno pagare alcuna quota proprio per dare la possibilità a tutti di riprendere con l'attività senza spese ulteriori considerando che questo è stato davvero un anno nefasto sono stati anche rimborsati i soldi delle tasse gara pagate dagli arcieri per gare che sono state naturalmente sospese o rinviate a causa del covid insomma tutta una serie di provvedimenti economici anche in riferimento alle società stesse che servono appunto per risollevare il movimento da un momento da un periodo di crisi dovuto naturalmente a situazioni contingenti che non sono dipese da nessuno se non da questo maledetto virus che ha raggiunto in maniera pandemica tutto il mondo e allora fanno il loro ingresso in campo i finalisti di questa gara di questo torneo della ripartenza eccolo qua Matteo Balsamo arcieri di Artemide al bersaglio numero uno e al bersaglio numero due l'atleta dell'aeronautica militare David Pasqualucci giudice di gara Francesca De Prospo Stefano Murgia il direttore dei tiri e Mario Trapani giudice di bersaglio inizierà David Pasqualucci la sfida conclusiva di questo torneo la sfida per il primo posto alle spalle di David Pasqualucci di nuovo Giorgio Botto mentre a seguire Matteo Balsamo il coach della scuola federale Fabio Olivieri David Pasqualucci inizia alla grande con un dieci diamo la risposta di Matteo Balsamo che prima ha superato in semifinale un campione del calibro di Mauro Nespoli una X per Balsamo che fa capire subito di volersela giocare alla grande l'atleta dei Castelli Romani risponde con un altro dieci e attenzione veramente vicinissimo alla riga del dieci la seconda freccia di Matteo Balsamo diamo la terza freccia del primo set per un nove e allora con un dieci riuscirebbe a pareggiare il conto Matteo Balsamo non è facile ma ha dato dimostrazione di poter avere medie punti molto alte in queste sfide e infatti c'entra il dieci ventinove a ventinove uno a uno parità dopo il primo set un'altra sfida dobbiamo dire con punteggi medi molto elevati dopo aver visto in precedenza Mauro Nespoli mettere a segno 8 10 su 9 frecce scoccate una media davvero importante e allora ricomincia David Pasqualucci Pasquale dice chi vince vince sono tutti bravi un salutone a tutti voi grazie Pasquale ragione beh d'altronde stiamo parlando di tutti gli atleti della nazionale Alessandro su facebook dice che distanza si dirà 70 metri di distanza con visuali da 122 centimetri il 10 è largo 12 centimetri sul 9 la prima freccia del secondo set di David Pasqualucci ed ora Matteo Balsamo Gianni aveva scritto ragazzi miei che campioni un altro 10 per Matteo Balsamo vediamo come risponde David Pasqualucci un 9 2-9 per Pasqualucci Matteo Balsamo un 8 in questo momento quindi parità 18-18 una freccia decidere chi dei due si può portare i due punti a casa o un punto ciascuno in caso di parità David Pasqualucci si è visto proprio qualcosa non è andato nel gesto tecnico dell'atleta Capitolino che è chiuso con un 5 quindi a gioco facile a questo punto Matteo Balsamo a guadagnarsi i due punti e portarsi sul 3-1 vediamo se sfrutta l'occasione alla grande la sfrutta molto bene un 9 27-23 3-1 per Matteo Balsamo allora vediamo un po' qualche altro messaggio Alfredo dice grande penso che si riferisse a quella sfilza di 10 messi al bersaglio Bronespoli poi Giovanni dice Matteo facci sognare e lo sta facendo visto che avanti 3-1 nella finalissima contro David Pasqualucci Valeria ci scrive grazie della diretta sempre graditissima grazie a te Valeria che sei una fedelissima di Juarco poi Lapilli scrive forza Sicilia forza Balsamo Alessandro aveva chiesto la distanza sono i 70 metri te l'abbiamo detto 70 metri con il diametro del 10 di 12 2 di 12 centimetri e allora comincia David Pasqualucci che è in svantaggio dopo i due punti ottenuti da Matteo Balsamo nel set precedente sul 9 la prima freccia di David allora vediamo come risponde Matteo Balsamo che dobbiamo dire ha avuto una gestione di gara fino adesso anche nei match precedenti eccellente essendo ancora un atleta molto giovane infatti ne dà conferma con questo ottimo 10 che per lui una media punti elevata un altro 9 per Pasqualucci seconda freccia anche per Matteo Balsamo sul 9 è comunque un punto avanti Matteo Balsamo 19 a 18 il parziale una freccia ciascuno questa è quella di David Pasqualucci aeronautica militare un altro 9 non è riuscito a entrare nel 10 Pasqualucci anche se di poco ne può approfittare per guadagnare altri due punti di vantaggio Matteo Balsamo con questa terza freccia di questo terzo set chiude chiude con un 9 che comunque è su 5 a 1 28 27 il parziale una grandissima prova da parte di Matteo Balsamo che ha avuto il merito di sfruttare subito la defaianza di Pasqualucci alla seconda volée dopo un'ottima prima volée da parte di entrambi è arrivato un tiro sbagliato possiamo dirlo da parte di David con quel 5 e Matteo Balsamo ne ha approfittato subito e dopo il 3 a 1 si è portato adesso sul 5 a 1 a questo punto per David Pasqualucci è necessario vincere e non pareggiare nemmeno un 7 per portarsi allo spareggio intanto Michele dice un saluto dagli arcieri Sarzana torneremo più forti di prima grazie Michele sicuramente o almeno dobbiamo lavorare per questo per tornare più forti di prima intanto ricomincia qui la sfida con David Pasqualucci margine di errore praticamente assente per l'atleta Capitolino sul 9 la prima freccia di Pasqualucci un 9 anche per Matteo Balsamo un altro 9 per Pasqualucci 2-9 18 punti per lui vediamo la seconda freccia per di Matteo Balsamo benissimo con un 10 Matteo Balsamo 19-18 David Pasqualucci con questa freccia deve assolutamente mettere pressione all'avversario perché anche un pareggio non sarebbe sufficiente un altro 9 chiude a 27 freccia decisiva per il giovane atleta siciliano che si può portare a casa la vittoria attenzione un 7 che rimette in partita David Pasqualucci 5-3 ha subito guardato il coach Fabio Olivieri Matteo Balsamo per capire quale fosse stato l'errore in questa freccia aveva avuto una media elevata sempre nel giallo e questa freccia dà la possibilità a Pasqualucci di rimontare e portarsi allo spareggio vincendo il prossimo set siamo sul 5-3 forse un po' insperato per Pasqualucci visto come stava tirando Matteo Balsamo fino a quel momento ancora nulla è deciso ricordiamo che anche in questo quinto set per Matteo Balsamo può essere anche sufficiente pareggiarla la volé per portarsi a casa la vittoria vediamo se vende cara la pelle David Pasqualucci naturalmente è un arciere di rango internazionale abituato a farlo infatti mette subito un 10 proprio per aggiungere pressione al giovane avversario naturalmente ancora giovane giovanissimo anche David Pasqualucci un 9 per Matteo Balsamo eccolo Pasqualucci in mira nuovamente atleta dell'aeronautica militare sull'8 la sua freccia un 9 per Balsamo questo punto è parità che per Balsamo andrebbe bene e chiude con un 10 Pasqualucci 28 punti Balsamo ha bisogno di un 10 per vincere il match altrimenti sarebbe spareggio arriva il 10 eccezionale Matteo Balsamo una condotta di gara eccellente da atleta navigato è riuscito a mantenere i nervi saldi nel momento più difficile aveva commesso un errore nella set precedente aveva portata di mano la vittoria non è riuscito ha sbagliato una freccia ma è riuscito a riprendersi con questo 10 conclusivo nell'ultimo set David Pasqualucci probabilmente stava assaporando il gusto dello shoot off in una rimonta diciamo insperata ma Matteo Balsamo non gliene ha data la possibilità ha piazzato un 10 all'ultima freccia il 10 che è valso il 28 a 28 e quel punto che gli serviva per andare sul 6 a 4 conclusivo e quindi a vincere il torneo della ripartenza qui a al centro tecnico federale di Cantalupa è Matteo Balsamo con un 6 a 4 l'atleta degli arcieri di Artemide è riuscito ad avere la meglio prima allo shoot off in semifinale contro un atleta di calibro internazionale come Mauro Nespoli e adesso è riuscito a vincere la finalissima contro un altro atleta che ha già nonostante la giovane età una grande esperienza internazionale stiamo parlando di David Pasqualucci che quindi si dovrà accontentare del secondo posto veramente delle sfide bellissime da seguire e adesso in pratica faremo anche dire due battute a Matteo Balsamo considerando la la vittoria in questa sfida conclusiva per quanto riguarda il ricurvo maschile e allora a questo punto il tempo di rivedere insomma di preparare le telecamere per l'intervista finale a Matteo Balsamo l'atleta vincitore di questo torneo sei in partenza un saluto a Paolo Podi che è a Manolo Cattari al vicepresidente Paolo Podi che è a Manolo Cattari il nostro psicologo della nazionale e niente a questo punto attendiamo l'intervista finale a a Matteo Balsamo vincitore della sfida maschile di questo torneo della ripartenza vediamo un po' se ci avete scritto nel frattempo Simone scrive Daie Pasqua Paola bravo Matteo vinca il migliore Sly complimenti a Matteo Balsamo veramente ottima gestione di gara dobbiamo dire che ha avuto i nervi saldissimi in un momento veramente non facile perché c'era il ritorno di David Pasqualucci con una media punti abbastanza elevata Matteo aveva bisogno di un 10 per chiudere il match ed è riuscito a piazzare il 10 che serviva per portarsi a casa la vittoria non era né scontato né facile riuscire a farlo vediamo un po' su Facebook cosa ci avete scritto anche un saluto al presidente Scherzella anche lui è stato qui a seguirsi le gare lo avete sentito questa mattina vediamo un po' se riusciamo a vedere i messaggi allora Giovanni grande Matteo adesso prove microfono per l'intervista intanto vediamo gli altri messaggi che sono arrivati Massimo scrive forza Matteo bello rivederti tirare in gara Andrea dice dovrebbe tirare un po' di vento vero sì c'era un pochino di vento ma devo dire che non ha influito più di tanto sulle prestazioni degli atleti Matteo facciolo un sorriso no era talmente concentrato che non aveva il tempo di sorridere Matteo Balsamo vediamo un po' a breve sentiremo le sue parole Massimo scrive vai grande Matteo scrive Silvia e vai Matteo ci scrive Mimma e siamo pronti a sentire Matteo Balsamo con Matteo Balsamo per sentire le sue emozioni del tornare sulla linea di tiro farlo qui a Cantalupa in una competizione diciamolo ufficiale per me è stato assolutamente un piacere perché prima di tutto non vedevo l'ora di confrontarmi in questa linea di tiro anche con i grandi insomma con tutti sono un tipo che piace fare competizione quindi mi è mancato un periodo particolare quello che ha preceduto il ritorno qui a Cantalupa di allenamenti e gare come hai vissuto la tua quarantena hai potuto allenarti hai potuto fare qualche attività qualcosa ho potuto allenarmi non a distanza regolamentare di 70 metri abbiamo ho fatto il possibile ovviamente non non è stato lo stesso allenamento che facevo quotidianamente qui ma è stato anche non emozionante ma particolare cosa si prova a tornare a tirare soprattutto con come hai detto tu con i tuoi compagni di nazionale anche con nazionale senior perché comunque si riprende si riparte anche la preparazione in vista di un appuntamento che rimane sempre il sogno olimpico dei giochi di Tokyo per parlare dei giochi di Tokyo secondo me è ancora presto però ci lavoriamo non è non è niente ancora detto ma ci si lavora e allora complimenti a Matteo Balsamo che con una prestazione super è riuscito ad avere la meglio su gli atleti di spessore internazionale come Mauro Nespoli e poi David Pasqualucci noi a questo punto diciamo io direi che possiamo chiudere la diretta e ringraziamo tutti loro che ci hanno seguito qua ci hanno scritto altri messaggi Mimma e Vai Matteo Massimo Grande Matteo applausi a tutti da Johnny Vai Matteo orgoglio nostro Marina Romoli ci scrive bellissimo scontro bravi ragazzi davvero sì bravi tutti comunque scrive Mimma complimenti anche a Pasqualucci grande sfida bella sfida tra i campioni sì grande Matteo orgoglio siciliano e insomma è stata veramente una gran bella giornata abbiamo rivisto tanti azzurri di nuovo in gara azzurri che che hanno ottenuto anche delle buone prestazioni e quantomeno sono riusciti a rivivere un po' il sapore dell'agonismo e di una competizione vera anche soprattutto per questi giovani che sono potuti crescere e stanno crescendo al fianco dei campioni della nazionale senior e avete visto come stanno crescendo visto che un giovane atleta come Matteo Balsamo che vive qui alla scuola federale di Cantalupa frequenta la scuola Pinerolo insomma ha cambiato vita nonostante la giovane la giovane età è riuscito in una giornata come questa a superare atleti dal valore internazionale abituati a gareggiare anche alle olimpiadi e allora io direi di chiudere questa diretta questa è la quarta diretta del mese di luglio per quanto riguarda la nazionale per quanto riguarda le gare sperimentali di luglio abbiamo fatto una prima la terza gara che riprendiamo in diretta come Uarco dopo la prima Sarzana la seconda del tiro di campagna a Castellarano questa è un'altra gara targa che appunto qui a Cantalupa dal centro federale con la nazionale olimpica e i giovani della scuola federale la prossima settimana saremo ad aprilia per vedere le finali della gara sperimentale 3D che verrà organizzata dagli arcieri Le Rondini con il supporto del comitato regionale Fitarco Lazio io ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno lavorato a questa diretta vi rinnovo gli appuntamenti su Rai Sport la sintesi di queste finali e cioè le finali del bronzo e dell'oro femminile e maschile andranno in onda il 28 di luglio alle 23 e 30 e il 29 di luglio in replica alle 15 e 30 su Rai Sport non perdetevele mentre stasera ci sarà un servizio che va in onda su su Rai News 24 alle ore 19 e 48 non perdetevi l'appuntamento con Sport Week il 25 di luglio ci sarà una bella pagina proprio dedicata al tiro con l'arco e poi ci sarà anche altro che riguarda la gazzetta dello sport ve ne daremo seguito attraverso il sito attraverso i social quindi rimanete sempre sintonizzati sui canali della federazione italiana tiro con l'arco perché il tiro con l'arco nonostante il covid va avanti e lo abbiamo dimostrato in tutte queste gare ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa diretta a partire da Ardingo Scarzella Marco Carpignano Natascia Salubazze Ticuscia Gabriele Giovine che è qui al mio fianco a cercare di infastidirmi mentre chiudo la telecronaca ma non ci riuscirà ho dimenticato qualcuno Gabriele no? ringrazio Filippo Corzini il nostro fotografo che ha fatto un grande lavoro in questi giorni un grazie naturalmente anche ai giudici di gara a partire dal direttore dei tiri Stefano Murgia l'arbitro Mario Trapani che è responsabile zonale e Francesca De Prospo noi vi diamo appuntamento su Uarco il prossimo weekend e su Rai Sport nei prossimi giorni da Guido lo giudice è davvero tutto grazie a tutti quanti voi per averci seguito ci rivediamo presto e sintonizzatevi su Uarco buona serata a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti